Continua il dialogo a distanza tra Ernesto Salvini e la famiglia d'Agostino. Il DG Laziale sta provando a liberarsi in anticipo dal Siena per iniziare il proprio percorso con il sodelizio irpino, ma la probabile cessione del club toscano ha rallentato l'operazione. Da qualche giorno l'ex Frosinone ha presentato la domanda di dimissione al sodelizio bianconero, così da iniziare a mettere le basi per la ricostruzione del nuovo assetto in casa dei Lupi. Insieme a Salvini, con cui i primi contatti ci sono stati nel mese di febbraio, si fa sempre più probabile l'arrivo in maglia bianco-verde di Ferdinando Cellitti, attuale team manager del Siena che ha condiviso con Salvini l'esperienza in ciociaria e che vanta un passato anche nella vita erbese che negli anni scorsi è stata società satellite dei gialloblu. Si lavora pure sulla costruzione di un'area marketing che da indiscrezione emersa potrebbe fare capo a Daniela Turchetti con un lungo impegno nella nazionale cantanti. Tra i fedelissimi di Salvini potrebbe esserci anche Mirko Gori, centrocampista orale triestina corteggiata a lungo dall'Avellino nello scorso mese di gennaio e individuata da Massimo Rasselli per rinforzare la mediana. Mentre dal Siena potrebbe sbarcare all'ombra del partegno Marco Frediani, 22 presenze da quello all'attivo, Fermana, San Mediettese, Parma, Ancona, Ascoli e Pisa, le altre squadre in cui ha giocato. Il campionato è terminato da poco ma in casa bianco-verde la ricostruzione è appena iniziata.